Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla FIPI lì ci sono lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. Fina 1 l'area di servizio di Arno Est in direzione Bologna esprovvista di GPL. Sul raccordo Siena-Firenze restringimento di carreggiata e scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi ricordiamo di guidare con prudenza nel rispetto del codice della strada e senza utilizzare i... Grazie a tutti.